La prima cosa è andata bene, facciamo abbastanza bene. E' stato pure, bravi. E' ci un'uso fermi in testa Cirovani, seguito dal Gigi Estrada, e' tutto il nostro. Calma che la gara è lunga, non ha piatti fretta, non ha piatti tumore. Prima passata di gestione del Cirovani, seguito dal Gigi Estrada. Ho, ho, ho! Ho, ho! Eh dai, però... Usa mio, porta. Eh, ciao! Manteniamo la calma anche sul palco. Vai, la stai a te, la stai a te, la stai a te. Sergio! Sergio! Sergio, la guarda te! Sergio, grazie! Il tema, la guarda te! No, ma ancora con il primo... Si è piaciuto con la cosa, è piaciuto ancora. La cloche a merda sgranate... Eccola, il torno al dottio. ma giro a te Un giro ai Ceresoli. Abbiamo un 45,6. Un altro mezzo, K.E. Vediamo che rientra il box. Eccola qua. Posizione 1, Giglio Mapelli. Tre giri. Posizione 2, Davide Ceresoli. VConnor. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Recupero, recupero. Non guardare il telefono. Eccolo, bravo. Guida aggressiva. Abbiamo troppo l'ordo sotto proprio una guida bella aggressiva. Guardate se mi atterrano dai salti. Posizione 3 Arturo Vergadoro, 5 giri. Posizione 4 Alfonso Rimoz, 2 giri. Posizione 5 Emilio Celeda, 2 giri. Allora abbiamo la classifica primo Egidio Matelli, secondo Valle Ceresali, terzo Arturo Vergadoro. 5 minuti al termine. Non come vuoi saltarlole. 5... Grazie a tutti. 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 Calma, 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 guida e rosservativa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.